Intro Benvenuti in questo nuovissimo video Io mi sto cagando in mano Inizia un nuovo gioco Quanta Allegria che ha questo Sì Viva la vita Perché Sto dicendo che questa Casa fa schifo Sì Anche questa cosa qua Fa schifo Da demolirla Proprio così Si può saltare Voglio saltare la story Non me frega niente Questa faccia è stupida Vedete che c'è la lingua fuori E' scema E già Ah i cavalli Ci sono i cavalli neri Quelli bianchi Ah ok 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 Ci sono due mura Le scale che ovviamente vanno sempre in basso Proprio così C'è la torre C'è la torre Una torre che fa schifo C'è una grafica pazzesca Mi sembra giusto C'è la torre che c'è la torre Ma tutto è non facile Sì Tempi di Quel tipo la matto Con gli boffetti Da coglione Che sono tutti Tutti Chi è Ah c'è Un tunnel E io ci dovrei andare No mancherò Dai su Figuriamoci se io devo Spaventarmi per così poco Ma dai su No io sono pronto ok Ma la sensibilità di questo gioco è Alle stelle Ragazzi C'ho paura Abbasso un po' il volume Che se no mi caglio ancora in mano Ragazzi C'ho paura Cavolo 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 So che loro sarebbero male con la webcam Però io c'ho una webcam Che fa schifo E Cioè mi potreste vedere male Quindi aspetto di comprare una webcam nuova Per poi Giocare con la webcam Magari come speciale dei 100 iscritti O dell'episodio 100 della vanilla Mi farò vedere Porco Cosa è stato? C'è qualcosa che non va qui Cristo corri Corri Non posso neanche sparare Oddio Ma che cavolo è Corri Dai pancione Ma sapete che fai guarda Giochi Ora fare la webcam Ma perché Non ho una webcam nuova Oddio Devo passare per di qua E mi è piaciuto Sporcarmi Non vedevo l'ora Guarda È bello che la grafica di questo gioco qua È proprio Bella No C'è proprio Una cosa bellissima Aiuto C'è scritto Acctung Non si deve correre Ma tutta che è successo C'è un problema nelle tubature C'è un problema nelle tubature Non sto scherzando Ma che cavolo Non credo che continuerò a giocare questo gioco Penso che farò un episodio e basta Perché mi sto già È defecando addosso Quindi Sono Spider-Man Posso saltare sui muri Guardate Perché non c'è la terza persona Voglio vedere la mia faccia Oddio Forse con F Ma che che Loading Salvato Cosa No Non salvare Come Con E Ho bisogno di una Chiave Del vino Roma 1604 Questo qua non lo posso neanche prendere Eh lo so A forza di spazzare le ragazze Si finisce così Dicono fanno presto No Non è vero Non fanno presto Ci mettono le 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grandi 6 Amico Sai contare Wow Cosa devo fare Devo prenderle Cosa Cosa Non ho capito Aspetta Aspetta Mi sembrava che Avessi visto Quale è il codice Quale è il codice 0 1 2 3 4 Aspetta 1604 Dov'è Ho perso Qua Vediamo 1604 1604 I'm a genius I'm a fucking genius Yeah Ho bisogno di una porta Di una chiave Cos'è questo? Ho bisogno di una chiave Il vino buono Tavernello Ma dove la trovi la chiave? In questo posto Aiuto Aiuto Ragazzi ho trovato la chiave Fantastico Fantastico E' questa? Wow Ma quanto vino bevevano Questi militari qua Di Quel tipo di Baffetti strani Da scemo No Sedia Si è svenuta Oddio E' questo cos'è? Un'altra chiave Dai prendilo 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 Ok 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 Ciao donna Oddio Oddio Che saluti Non mi salutare Non salutarmi Mai più Te sei pazza Non mi salutare Ok Mi ha salvato il gioco Traslazione dal latino Cosa? Ok Cosa? Cosa sta accadendo? Cosa? Perché è tutto buio? No Se per adesso io No 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 Non mi apparirà No 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 Come sta accendendo la torcia? No E' tutto buio Basta Io Guitto Cosa sta facendo? No 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 Devo seguire? No 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 Ma che cavolo Raga io Io ho paura Cavolo Ma com'è possibile Che qualcuno Di così pazzo Abbia fatto un gioco Così Malato Di mente Raga no Raga le scale no Raga le scale no Devo salire sempre di più Oddio Cioè Voi non mi vedete Ma La mia Espressione Adesso E' terrorizzata Com'è Non so che cosa Sono contento Perché devo salire E' finito Che cacchio Vai Qualcuno è caduto dal piano No E' così Ok Partiamo da dove abbiamo salvato Allora Devo soltanto Ma io non ho niente Mi c'è di prendere il suo pistolo Ma io Non ho niente Cosa lo picchi Con i pugni Ah vabbè Devo picchiare con i pugni Così che si fa Ok Ho capito come fare Forse Ho la chiave Prendi la chiave Bene Dov'è la mia Pistola Dai corri Corri Oddio Ma io non ho mica la pistola Vabbè io ti rinuncio Ok Allora Svegliamo per di qua Svegliamo per di qua Questo non muore Dai Sali Sali E' già la Terza Volta Che ci provo Quindi Dai Sali su Ancora Ok Ma cosa No Non lo supporto più Sto gioco E' difficile Troppo difficile Allora Dammi la tua pistola Dove è la pistola Non ha la pistola Questo Ma come si è messo Ok Non so cosa fare Che bello Mi butto Ah no Chiave Prendila Andiamo Quanto alto il volume Mi butto No Perché Beh non so cosa fare Non so veramente cosa fare Quindi Direi che Questa E' l'ultima volta Che ci provo Ok Dove è la pistola Qui Perfetto Dobbiamo suonare Ok Ma l'ambicatore Che lo faccio Questo A ver Magari Scendo giù Le scale Non c'è una porta Qui Che casino Non posso neanche Spegnere il torcio Qua c'è qualcosa Qui Non c'è niente C'è una scala Ah vabbè Allora Vabbè Quindi per questo video Tutto E' bello Stacco presto Perché la musica E' inquietante Bella